L'artigianato artistico è di qualità come elemento capace di riaffermare il legame tra il capoluogo Umbro e le terre del Trasimeno. È l'idea portante del progetto Perusia e il suo lago e del Festival dei mestieri d'arte che dopo la prima giornata di domenica 2 ottobre nel centro storico di Perugia ha replicato domenica 9 sul lungo lago di San Feliciano. L'obiettivo del Festival è la promozione dei maestri artigiani artistici Umbri e dei loro laboratori riportando sotto i riflettori una produzione e espressione di creatività, genio, cultura e legame con il territorio spesso poco conosciuta. Come in piazza San Francesco al Prato, domenica San Feliciano è stato allestito uno spazio espositivo per una ventina di artigiani Umbri che hanno presentato oggetti, espressioni di un forte senso di identità con il territorio. Durante la giornata si è svolta una tavola rotonda dal titolo Sapere artigiano, arte e territorio ed è stato possibile anche partecipare alla visita guidata a Sant'Arcangelo. La chiusura è stata affidata al concerto del maestro Andrea Ceccomori. Il Festival è stato anche l'occasione per presentare i risultati del lavoro di ricerca svolto, i tour della Via dei Chiugi e i prodotti gadget realizzati dagli artigiani con l'inedito marchio souvenir. La chiusura è stata affidata a Sant'Arcangelo.